FITO Quindi, fammi capire bene, e ne 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 e ne... Maa quante danni abbiamo causato nell'ultima battaglia? Allo, inna di Did Royle, mi prendi per il culo? No, mi prendi per il culo? Sofitei! Che? Andiamo alle sei! Ecco cosa succede a proteggere i locali. Ma di chi è stata l'idea geniale di costruire una città di milioni di città sopra la città militare più accettosa del mondo? Sono un cazzo! Nessuno si è opposto! Be uno l'ha fatto! E' possibile, port... Anna la Madonna? Ma, porco di o, ma è possibile che sia così d-d tas implþilli? Intendi l'ultima speranza dell'umanità che è venuta addosso per un ragazzino? Come sta? Questo abbroncio vi sta parlando!! E' in perfetta salula stop talk Chi è? Testimonio Come può vedere l'Unità 0-0 è impossibilità tal- polca Troia, una Troia!? Vuol dire che sei Troio e vie dicendo! Ehm, signore? Lei è una faccia di merda, lo sa questo, signore? Mi stai chiedendo di uscire? Cosa? Perfetto, ti vengo a prendere le sei! Shinji, apro la porta. Senes? Lo sai che il sarcasmo è la più bassa forza di umorissa? Ah sì, beh, tua madre è una mignonne. Grazie per la confessa. Perché non ci godiamo bel c***o in culo aspettando la morte? Ora che abbiamo deciso tutti quanti pronti per... Operazione... Tu sai che la presunzione è la madre di ogni fallimento, vero? No, so che la presunzione è la madre di ogni c***a! Ti sei assicurata che Shinji voglia salire di nuovo sull'Eva? Ayanami, sesso. I medici hanno rilevato un problema col tuo pene. Cosa? Ma... ma cos'ha che non va il mio cosa? Vestiti, devi tornare a bordo dell'unità 01. Quindi vogliono che lo piloti an... Cosa? Guarda il mio viso. Va bene. Guardale e basta. Ayanami? No, no, continua a guardare. Io sto guardando! Cosa? Sta a te proteggerci tutti. Se non lo farai, non lo farai. Tutti continuano a dirmi di essere forte. Tutti continuano a dirmi di essere... Una miniera. Tutti continuano a dirmi di essere... Mostruoso! Penso ancora che tu sia uno smidollato. Immagino che oggi sia stato solo fortunato. Ben svegliato? Cosa? Ikari, gli angeli ci attaccano, l'umanità è in pericolo, tuo padre ti sta aspettando e c'è bisogno che tu piloti lo 01. Quindi entri in quel robot Ikari. Non è possibile! Non è possibile! Non è possibile! Grazie a tutti